Buongiorno a tutti, sono Marco, istruttore di AFA, Attività Fisica Adattata AFA! Cosa vuol dire? Attività fisica adattata! Brava! Vi aspettiamo tutti sabato 20 maggio per l'Open Day in cui potrete provare tutte le attività del centro Il 20 maggio cosa c'è? L'Open Day! Prima lezione di ginnastica AFA a che ora è? La seconda? 10 Quindi vi aspettiamo Telefono 30 969 Oppure il sito www.ilcentroviareggio.it La mail è il centro psicosociale chioccioagmail.com Allora se raggiungiamo la cifra di circa 6 Noi facciamo sempre anche maggio, giugno, luglio e avrosso Uno vecchio come me ha la possibilità di venire Per partecipare dovete prenotare entro il 18 maggio La rifacciamo Per partecipare all'attività del centro dovete prenotare entro il 18 maggio Vi aspettiamo tutti, grazie 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 Grazie